Sarà Yannick Moreira, 2'11 angolano di scuola americana, il rinforzo sottocanestro per la Virtus. Centimetri, ma soprattutto grande atletismo. Potrà essere il cambio di Brian Quoli, avendone caratteristiche diverse, e di Kravic, nel caso sia il capitano a rimanere fuori dalla turnazione per colpa dei guai alla schiena. Così, incassato l'invito della proprietà a risolvere i problemi a lunghi, la dirigenza ha trovato il giocatore che può fare al caso di coach Sacripanti, il quale lo avrà a disposizione per la gara di Varese e forse, se la firma arriverà in tempo, già contro l'Ubbiana mercoledì in Champions. Sulla carta, un innesto importante, che permetterà al tecnico Brian solo di gestire al meglio il minutaggio di Quoli, da una parte, soprattutto in Coppa, e in campionato di scegliere la soluzione migliore di partita in partita. Intanto il gruppo, finalmente al completo dopo due mesi, deve battere Brescia per restare in scia con la possibilità di andare alle finaletti di Coppa Italia, più probabili adesso alla luce della possibile penalizzazione di Avellino, che rischia di subire un meno pesante in classifica per il tesseramento di Patrick Young e restare così fuori dalle otto impegnate a Firenze, dove si assegna il primo trofeo del 2019. Un pensiero da lasciare ovviamente fuori dal campo, dove invece bisogna portarsi la voglia di prendere questi quattro punti e chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi, che diventano sei punti con i due in palio contro Lubiana, in grado di dare la certezza del passaggio del turno in Europa. Insomma, è ancora un momento nel quale la stagione può girare per il verso giusto. L'arrivo di Moreira va proprio in questa direzione.